Abbiamo fatto un'applicazione per mio padre che stava a rimanere qui in Inghilterra. Il problema è nato perché Computer non accettava il fatto che lui aveva più di 100 anni. Per il sistema lui era nato il 2019 invece del 1919, quindi risultava che lui aveva solo un anno. Diceva questo che doveva essere accompagnato dai genitori. Invece adesso fa 101 al 28 febbraio 2020. Grazie per la visione!